Quest'anno un grande salto di qualità nell'iniziativa, temi che la regione persegue da tempo, quindi temi della qualità, del biologico, del dissesto erogeologico, temi del buono e del ben cucinato. Noi siamo presenti con uno spazio di 70 metri quadri nel quale parleremo e presenteremo due bandi importanti, uno appunto sulla prevenzione del dissesto erogeologico e l'altro invece è importantissimo perché riguarda la viabilità secondaria nell'ara del cratere e quindi per intenderci le strade vicinali e interpoderali che spesso sono abbandonate e che non consentono alle aziende di svolgere appieno la loro attività. E poi si parlerà di tanto e altro, delle filiere, filiera di bovimarche, quindi filiere delle carni, filiera della frutta, quindi Montelabate, Valdaso e quindi anche prodotti di qualità che non sono più di nicchia ma che diventano dei prodotti che hanno una grande reputazione. E insieme a questo poi si parlerà sempre di vino, di olio, insomma dei temi diciamo più classici. Ovviamente parleremo anche dell'esperimento che facciamo degli istituti alberghieri con i giovani studenti ai quali spieghiamo quali sono i prodotti appunto di nicchia, prodotti di qualità e cos'è la biodiversità agraria. Ma devo dire che tipicità ha una straordinaria capacità ogni anno innanzitutto di sorprenderci. C'è questa straordinaria capacità di innovarsi e rinnovarsi, di guardare al futuro. Porta sempre questa straordinaria partecipazione di popolo e non solo, ma anche di una partecipazione qualificata. Non solo i produttori, ma c'è tutto, c'è la cultura, c'è il mondo del giornalismo, c'è la politica, c'è la politica perché la politica è anche l'occasione per parlare del nostro tempo. Questo tipicità lo sa fare, sa raccontare bene quella che è la storia della nostra regione, dei nostri territori e del nostro paese. La sa raccontare in un unicum che abbraccia tutto e c'è anche questa capacità di guardare al futuro. Secondo me tipicità in questi anni ha avuto la capacità di varcare anche i confini regionali. Questo credo che sia da sottolineare e questo ci dà ancora maggiori opportunità. Un grande evento.